Ho scelto questo indelizzo Scienze Applicate data la mia passione per l'informatica e per via dei lavoratori STEM che facciamo in un'ora aggiuntiva del martedì, dove ad esempio facciamo Arduino, ovvero questo, e Coding. E stiamo già preparando dei progetti per Natale dove facciamo lampeggiare le luci e ricordando gli alberi. Il liceo delle Scienze Applicate garantisce soprattutto una solida preparazione nella scienza, nella matematica e nell'informatica. Si rivolge soprattutto ai curiosi, ai intuitivi e ai creativi. Oltre ai lavoratori delle STEM si prendono quello dell'informatica e della scienza, in cui si praticano anche diversi esperimenti che sono molto coinvolgenti per tutta la classe. Questa scuola ha due corsi universitari basati sulla scienza, come per esempio la chirurgia, la medicina, l'ingegneria, l'informatica e anche la biologia. Consiglio questa scuola a tutti quanti a cui piacciono le materie scientifiche, ma anche l'informata, e a chi per scoprire le cose nuove tramite gli esperimenti e le lavorazioni particolari.